E io volevo fare, se io non avessi avuto un'altra statura, io volevo fare un artista drammatico, se permette le dirò che ho una grande disposizione per la scena. Ah sì? Ah sì, io agli artisti non faccio fare le prove, ma faccio vedere io, adesso no, ho sempre fatto vedere io, facendo la scena come deve essere, insomma. Interpretando proprio. Interpretando, sì. Collaborando alla regia. Perché la regia nella musica, è da quello che è un po' il punto controverso con qualche regista con me. Una volta mi sono divertito, dico, senta, senta signora, venga qui da me. Ho visto che lì in quel momento ha fatto un gesto brusco, ma io volevo della musica dolcissima. E poi un altro, lui dice, lei non ha fatto niente. E lì ho delle strappate d'orchestra che sono nello spavento. Bisogna mettere un po' d'accordo con la musica, vuole? Perché io sono, questo sì, credo di essere uno dei migliori registi. Immagino, immagino, e qual è stata, secondo lei, in tutti questi anni, la migliore esecuzione che lei abbia visto, interpretato? Questo non vi stavo vorrei dire. So che mi ha fatto molta impressione quando ho diretto, ultimamente, qualche anno fa, ho diretto e messo in scena io il Parsifal. Dove? A Palermo. E c'è un teatro che ha uno sfondo immenso. Il massimo? Il massimo, sì. C'è un teatro che ha un palcoscenico e l'ultima scena, credo che l'avevo messa in maniera, che faceva impressione. Ci tengo a essere regista. Ho capito. Ho capito.